La forma della tua sorella la sei a tutto! Ma con sabato mi non mi intendo di queste cose qui e poi a te dirò che sono anche contento Così che faremo un Eudin e così potrà aiutarne anche nella fattoria Senza altro mastio e magari anche un aiuto per la cantina Brava! Zio Trudy non mi sento tanto bene sai Oddio oddio non so se era stato il viaggio o l'emozione ma Oddio oddio mi sembra di essere fatta la pipì addosso Ma no cara, adesso ha rotto le acque Ma è meglio che ne modelli in camera dai vieni cara Oddio oddio oddio